...e cioè è l'azzeramento dell'IRAP per chi apre i nuovi negozi nei capoluoghi Loparti e nei comuni con tutti i 50.000 abitanti. È un'iniziativa sperimentale ma ovviamente con una larga base perché nei capoluoghi e nei comuni con tutti i 50.000 abitanti abitano un gran numero di abitanti e un gran numero di attività commerciali. L'idea è incoraggiare l'apertura di negozi che hanno un ruolo oltre che economico anche sociale. I centri abitati presidiati da attività commerciali sono più sicuri, sono vivi e garantiscono anche una tenuta sociale. Quindi è un'iniziativa che ha un doppio valore. La regione rinuncia alla propria quota di IRAP azzerandola totalmente mostrando e incoraggiando in modo non simbolico ma pratico chi si mette in campo e ha il coraggio di iniziare una nuova attività. Se funzionerà speriamo poi dopo il 22 ottobre di avere la possibilità di estenderlo a tutti i comuni dell'Europartia perché credo che questo sia un signore positivo. Se ti metti in campo non ti aiutiamo di cosa farà di noi.